Ben trovati, ieri abbiamo iniziato il percorso di riflessione sulla vita interna dei partiti politici in questo Paese, dei maggiori partiti politici. Abbiamo parlato principalmente del Partito Democratico, oggi vorrei affrontare la questione Movimento 5 Stelle con la speranza che parlamentari o simpatizzanti non fraintendano le mie parole, che non sono di critica perché contro il Movimento 5 Stelle, così come non sono state di critica quelle rivolte ieri al Partito Democratico perché contro queste, così come non saranno di critica quelle contro il popolo delle libertà, ma non perché contro questo, perché la critica dovrebbe essere importante per tutti e far crescere tutti quanti, perché anche quando non si condivide un'idea, se questa è manifestata in modo, come dire, equilibrato e anche non in cattiva fede, dovrebbe far riflettere tutti quanti, anche la critica che viene rivolta a noi da un amico, figuriamoci nella gestione complessiva di un partito o di un movimento. Per quale motivo il Movimento 5 Stelle ha avuto questa forza dirompente di conseguire voti sul nostro territorio? Perché così come ha confermato ieri la Conf Commercio, 40 mila aziende hanno chiuso negli ultimi anni, 40 mila aziende chiuse significa migliaia e migliaia di posti di lavoro evaporati e crisi economica complessiva, crisi reale e crisi certa, netta, devastante all'interno delle famiglie di quei lavoratori che non hanno più un'occupazione. La rabbia, l'antipolitica, la riflessione critica verso la casta ha fatto nascere, gonfiare questa voglia, questa esasperazione contro i partiti tradizionali e Grillo ha svolto un lavoro importantissimo perché quella voglia di essere contro coloro che avrebbero, come dire, determinato questa nostra crisi poteva sfociare anche in atti di violenza e invece forse ha calmierato, ha calmato, ha interpretato e la gente ha votato contro, contro il PD, contro il PDL, contro il centro, contro Monti individuando Beppe Grillo. Benvenga quindi il voto libero e democratico anche verso momenti alternativi rispetto alla tradizione partitica. Ma attenzione perché poi la gestione interna di un movimento è importante. Ricordate un po' di giorni fa le polemiche scaturite dall'abbandono del partito, del comico Ligure, di alcuni parlamentari, di due parlamentari iscritti poi al gruppo misto e le polemiche che hanno caratterizzato anche quelle riflessioni critiche di un'altra deputata nei riguardi del leader massimo all'interno del Movimento 5 Stelle. Sì, questo deve farci riflettere perché se io vado a considerare Lecca De Retano, l'onorevole del PDL, l'onorevole del PD che dice sì e non fa sentire la propria voce di autonomia nei riguardi del leader del Popolo delle Libertà o del Partito Democratico, devo considerare allo stesso modo, dovrei considerare allo stesso modo quel parlamentare del Movimento 5 Stelle che accetta tutti i diktat di Beppe Grillo. Ma voi direte, ma è diverso. Grillo ha determinato l'elezione di parlamentari, di cittadini che mai avrebbero pensato di essere i rappresentanti nella massima sede istituzionale, per cui questi devono essere grati a lui. Sì, sarà anche vera quest'altra valutazione, quest'altra considerazione, ma è altrettanto vero che qualsiasi cittadino poi investito di autorità o perlomeno di importante impegno da portare avanti muta anche quasi geneticamente il suo modo di essere e di porsi verso anche il leader. Il leader dovrebbe essere così tanto forte e intelligente, in quanto leader e non solo capo, a tenere unito il partito, accettando anche le critiche, non dicendo bene, dimettetevi o bene, lasciate il Movimento 5 Stelle, perché questa è una questione democratica. È vero, molti si saranno anche montati la testa e non credo per esempio che questa condizione sia caratterizzante i parlamentari della Puglia o del Salento. Li vedo, come dire, modestamente, nel senso bello della parola, cioè con modestia, impegnati a rappresentare sul territorio delle battaglie. Però tanti hanno incominciato a mettere il colletto bianco, la cravatta e la giacca, cosa che già durante le prime sedute di Camera e Senato rigettavano. Ora si sono imborghesiti, ma va benissimo anche questo, ma per una vera rappresentanza politica tutti i parlamentari non devono chinare la testa, devono dialogare con il proprio leader, che può avere anche un'impostazione, una strategia politica fino all'altro ieri vincente, ma non può dire o accettate ciò che io dico e ciò che è scritto nello statuto, che ha scritto soltanto lui, oppure siete fuori dal Movimento 5 Stelle. Già gli errori che hanno impedito al partito del Comico Ligure di governare col Partito Democratico, hanno prodotto l'evacuazione di tanti voti che sono andati al mare. Ecco perché forse per il bene della democrazia complessivamente, perché una forza anarchica, libera e autonoma e sempre bello che ci sia in un Paese, devono riflettere sulla organizzazione periferica e sul modo in cui si confrontano con chi ha determinato la loro vittoria e la loro elezione. Buon weekend! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!